Trasformo Lionel Messi in un guru online. Il calciatore argentino incassa più di 54 milioni di euro l'anno nella squadra dell'Inter Miami. E se avesse la minima intenzione di guadagnare altri milioni di euro giusto per divertirsi, dovrebbe sfruttare questa opportunità. Ed ecco cosa farei se fossi Lionel Messi, anche se, come scrivete tutti nei commenti, insomma, potrebbe anche farne a meno. Ma di questo a noi non frega una sega. Primo step, affidarsi ad Ulama per creare la Messi Academy. Registrando ad esempio un videocorso dal titolo Trasforma il tuo talento in leggenda, un programma dedicato ai giovani calciatori che aspirano a diventare magari dei professionisti del calcio o semplicemente migliorare le proprie skills. Questo corso potrebbe concentrarsi ad esempio su come passare da un percorso calcistico giovanile al calcio professionistico, con consigli su allenamento, tecniche, skills, mindset e gestione magari della carriera. Secondo step, creare la community. Grazie ad Ulama, infatti, Messi, o chi per lui, potrebbe creare una community nel quale tutti i partecipanti possono magari porre determinate domande, ad esempio su azioni, su skill imparate, go realizzati, avendo anche dei feedback da parte dei gestori. E magari il golo o l'azione migliore potrebbe essere premiata ricevendo un video saluto da parte di Messi che fa i complimenti allo studente. Messi ha 500 milioni di follower su Instagram e se usassimo la regola dell'1%, esattamente 5 milioni di persone comprerebbero il suo corso. E se il prezzo per accedere fosse 250 euro, ipotizziamo, lui avrebbe guadagnato 1 miliardo e 250 milioni di euro solo da questo corso. Ecco, sappi che per fare queste cifre insegnando una tua passione, una tua competenza o una tua professione non devi di certo essere messi e avere milioni di follower o essere super certificato. Infatti nel link in bio avrai tutte le informazioni per capire come iniziare a creare un'attività di videocorsi o di consulenze o di membership in un unico software.